quando penso a casa dove ora non c'è più nessuno credo che una volta le cose andassero diversamente una volta si sapeva così sospettava forse di avere in sé la morte come il frutto al nocciolo i bambini ne avevano una piccola in sé e gli adulti una grossa le donne l'avevano nel grembo e gli uomini nel petto la si aveva e questo dava a ciascuno una speciale dignità e un silenzioso orgoglio il mio nonno ancora che era stato il ciambellano bridge si vedeva che portava in sé una morte e che morte lunga due mesi e così rumorosa che la si udì fin dalla fattoria l'antica e lunga casa patronale era troppo piccola per quella morte sembrava che si dovessero costruire nuove ali perché il corpo del ciambellano diventava sempre più grande ed egli voleva essere portato incessantemente da un locale all'altro e cadeva in terribile collera se il giorno non volgeva ancora alla fine e non c'erano più stanze in cui non fosse stato deposto allora con tutto il corteo di domestici cameriere e cani che aveva sempre intorno si andava su per le scale il maggiordomo in testa fino alla camera in cui era morta sua madre di felice memoria camera che era stata conservata esattamente come ella l'aveva lasciata 23 anni prima nella quale nessuno altrimenti poteva mai entrare ora vi rompeva tutta la muta le tende venivano scostate e la luce vigorosa del pomeriggio d'estate frugava tutti gli oggetti timidi spauriti e si aggirava maldestre negli specchi spalancati e altrettanto faceva la gente c'erano cameriere che per curiosità non sapevano più dove posare le mani giovani servitori che fissavano ad occhi spalancati ogni cosa e domestici più vecchi che muovevano intorno cercando di ricordare tutto ciò che era stato loro narrato in quella stanza chiusa in cui ora avevano la fortuna di trovarsi ma soprattutto ai cani sembrava straordinariamente eccitante la sosta in uno spazio dove tutte le cose mandavano odore i grandi e magri levrieri russi correvano occupati qua e là dietro le spalliere delle poltrone attraversando la stanza ondulando in lunghi passi di danza si drizzavano come cani araldici e posate le zampe magre sul davanzale della finestra bianco e oro col muso attento e la fronte ritratta guardavano a destra e a sinistra nella corte piccoli bassotti color giallo guanto sedevano nell'ampia poltrona di seta presso la finestra con l'aria di constatare che tutto era in ordine e un irsuto cane da punta di malumore sfregava il dorso contro lo spigolo di un tavolino dalle gambe dorate facendo tremare la tazza di sevre sul piatto dipinto sì, furono ore terribili per quelle cose assorte e sonnolente accadde che da libri aperti maldestramente da una mano frettolosa scivolassero fuori ondeggiando petali di rosa che venivano calpestati oggetti piccoli e fragili venivano afferrati e, poiché si spezzavano subito rimessi giù velocemente alcuni anche cacciati in frantumi sotto le tende o buttati dietro la griglia dorata del parafuoco e di tanto in tanto qualcosa cadeva cadeva sommesso sul tappeto cadeva rumoroso sul duro pavimento di legno si spaccava qua e là si schiantava bruscamente o andava in pezzi quasi senza rumore poiché quelle cose viziate come erano non sopportavano il più piccolo urto e se a qualcuno fosse venuto in mente di chiedere che cosa fosse la causa di tutto ciò che cosa aveva richiamato nella camera scrupolosamente custodita quella profusione di rovina si sarebbe stata una sola risposta la morte la morte del sambellano Christoph Detlef Fridge a Ulsgaard poiché questi giaceva in mezzo al pavimento stralipando enorme dall'uniforme azzurro cupo e non si muoveva nel suo grande volto estraneo ormai riconoscibile a tutti gli occhi erano chiusi egli non vedeva ciò che accadeva dapprima si era cercato di metterlo sul letto ma l'aveva impedito poiché odiava i letti da quelle prime notti in cui era venuta crescendo la sua malattia anche il letto lassù si era dimostrato troppo piccolo e non era rimasto altro che deporlo sul tappeto poiché non aveva voluto scendere ai piani di sotto là giaceva ora e si poteva pensare che fosse morto i cani mentre cominciava lentamente a imbrunire si erano ritratti l'uno dopo l'altro attraverso lo spiraglio della porta solo riussuto dall'aria corrucciata sedeva presso il padrone e una delle sue zampe anteriori giaceva grossa e villosa nella mano grande grigia di christoph letleff anche la maggior parte dei servitori stavano ora fuori nel corridoio bianco che era più chiaro della stanza ma quelli ancora rimasti dentro volgevano di tanto in tanto sguardi furtivi verso il grande mucchio nel centro che s'andava oscurando e speravano che fosse solo più una grande veste sopra una cosa corrotta ma qualcosa durava ancora era una voce la voce che anche solo sette settimane prima nessuno aveva mai conosciuto poiché non era la voce del ciambellano non era christoph letleff la cosa a cui apparteneva quella voce era la morte di christoph letleff la morte di christoph letleff viveva già da molti molti giorni a hulsgaard e parlava a tutti e pretendeva pretendeva ad essere portata pretendeva la camera azzurra pretendeva il salotto pretendeva la sala pretendeva i cani pretendeva che si ridesse si parlasse si suonasse e si stesse in silenzio e tutto ciò insieme pretendeva di vedere amici donne e morti e pretendeva per sé di morire pretendeva pretendeva e gridava perché quando era giunta la notte e quei domestici esausti che non dovevano vegliare cercavano di prendere sonno allora la morte di christoph letleff gridava gridava e gemeva forte munghiava così a lungo e incessante che i cani i quali avevano cominciato a farle coro urlando mutolivano e non osavano accucciarsi e ritti sulle lunghe snelle zampe tremanti avevano paura e quando per la vasta argente a notte d'estate danese dal villaggio udivano che essa munghiava balzavano dal letto come per un uragano si rivestivano e senza una parola restavano a sedere intorno alla lampada finché cessava e le donne che erano prossime al parto venivano condotte nelle stanze più interne e nelle alcove più serrate ma la udivano la udivano come se fosse dentro il ventre e supplicavano di potersi alzare e giungevano bianche e larghe e sedevano fra gli altri con i loro volti intrisi di lineamenti vaghi e confusi e le vacche pregne in quei giorni erano prive d'aiuto e chiuse e ad una si dovette strappare dal ventre il frutto morto con tutte le viscere poiché da sé non voleva uscire e tutti facevano male il loro lavoro consueto e dimenticavano di portar dentro il fieno siccome durante il giorno erano atterriti all'idea della notte ed erano così spossati dal molto vegliare e dai paurosi risvegli che non avevano più testa per nulla ma quando alla domenica andavano nella chiesa bianca e tranquilla pregavano che non vi fosse più alcun signore a Ulsgaard poiché questo era un signore terribile e ciò che essi tutti pensavano e pregavano lo pronunciava dal pulpito al pastore poiché anche egli non aveva più notti e non riusciva più a capire Dio e la campana lo diceva cui era giunta una rivale spaventosa che rimbombava tutta la notte e contro la quale essa non poteva nulla si fosse pur messa a suonare con tutto il suo bronzo sì tutti lo dicevano e tra i giovani vi fu uno che aveva sognato d'essere penetrato nel castello ed aver ammazzato con il forcone dell'etame il grazioso signore e la gente era così furente così all'estremo così sovreccitata che tutti lo stettero a sentire mentre raccontava il suo sogno e poi quasi senza volerlo lo osservarono per vedere se fosse capace di tanto tali i sentimenti e i discorsi nell'intera contrada in cui solo qualche settimana prima il ciambellano era stato amato e compianto ma sebbene così parlasse la gente nulla mutava la morte di Christoph Detlef che dimorava a Hulsgaard non si lasciava far fretta era venuta per dieci settimane e dieci settimane restò e durante quei giorni fu più signora di quanto fosse mai stato Christoph Detlef Bridge era come un re che che di poi e per sempre viene chiamato il terribile questa fu la morte di un idropico qualsiasi questa fu la morte cattiva e principesca che per tutta la vita il ciambellano aveva portato dentro di sé e nutrito di sé tutto l'eccesso di orgoglio volontà e imperio che egli non aveva potuto consumare ai suoi quieti giorni trascorreva nella sua morte nella morte che ora sedeva e scialava in Hulsgaard come avrebbe mai guardato il ciambellano Bridge che avesse preteso da lui che gli dovesse morire una morte diversa egli morì la sua pesante morte e quando penso alle altre che ho visto e di cui ho sentito parlare è sempre lo stesso tutti avevano una propria morte gli uomini che la portavano nell'armatura dentro come un prigioniero le donne che divenivano vecchissime e piccole e poi in un letto enorme morivano come su un palcoscenico innanzi all'intera famiglia alla servitù e ai cani riservate e sovrane perfino i bambini i più piccoli anche non avevano una qualsiasi morte infantile ma si raccoglievano in sé e morivano quel che già erano e quel che sarebbero divenuti e quale bellezza malinconica nelle donne quando erano gravide e si reggevano in piedi e nel loro grosso ventre su cui giocevano distinto le mani esili c'erano due frutti un bambino e una morte il loro sorriso denso e quasi nutriente nel volto svuotato non scaturiva forse dal loro capire talvolta che i due frutti crescevano insieme un bambino un bambino un bambino Grazie a tutti